Ciao ragazzi, anche da casa potete scegliere il vostro futuro. Sono Alessia e mi sono appena laureata al corso di laurea triennale in Economia e Management all'Università degli Studi dell'Insubria e ho deciso di continuare col corso di laurea magistrale in Economia e Diritto di Impresa. Alla domanda perché scegliere l'Insubria rispondo perché è un'università valida dal punto di vista didattico e questo lo possiamo notare dall'elevata competenza dei nostri insegnanti e dalla loro totale disponibilità nel rispondere a nostri dubbi o domande. In questi anni ho avuto conferma dell'efficienza dei servizi che l'università ci mette a disposizione e è importante e anche molto piacevole l'ambiente che si viene a creare, un ambiente familiare che poi farà parte della nostra quotidianità perché l'università è il primo passo per il nostro futuro.